Il commissario ad acta Donato Toma assicura piena collaborazione con le strutture sanitarie accreditate e pronti i contratti a breve, la priorità però resta la cura garantita ai molisani del posto. Le osservazioni della Casa dei Diritti, presiedute dall'On. Raura Venitelli, hanno ispirato a Termoli la nascita di un nuovo comitato contro l'eolico. L'Associazione Centro Storico Trivento, contraria alla scelta dell'amministrazione comunale di spostare la sede del Comune e gli uffici dell'Istituto Scolastico Ciafardini. L'inflazione pesa sul carrello della spesa degli italiani che nel mese di dicembre e gennaio hanno dovuto fare i conti con l'aumento generalizzato di beni di prima necessità. Un caro saluto a tutti e ben ritrovati con questa edizione del telegiornale DTLT e parliamo di sanità. Il commissario ad acta Donato Toma apre ai privati pronti i contratti. L'obiettivo primario però resta la cura dei cittadini. Intanto si cercano medici e sanitari di paesi terzi per far fronte alla grave carenza di personale nei nosocomi. L'obiettivo è curare in modo ottimale i pazienti e offrire cure di qualità in Molise. Questi buoni propositi del commissario ad acta Donato Toma che in queste ore si dice pronto ad un dialogo con gli ospedali privati accreditati, con la sanità pubblica per migliorare l'offerta. Il presidente della regione assicura così che i contratti per il 2023 saranno pronti nel giro di pochi giorni. La cura dei molisani resta la priorità, spese per gli extra regionali solo dopo aver soddisfatto le esigenze dei residenti. Insomma si prova a giungere così ad un compromesso e lo si fa creando stabilizzazione. Ricordiamo che solo pochi giorni fa il Tar Molise si era espresso circa il braccio di ferro fra i privati accreditati come Gemelli Molise, Villa Maria e Neurum e della struttura sanitaria regionale. Intanto l'ASREM bandisce nuovi concorsi e lo fa per cercare di tamponare la carenza all'interno dei nosocomi e del pronto soccorso. Ora è proprio la volta dei medici del pronto soccorso, altro reparto allo stremo degli ospedali per la cronica carenza. E così dopo che il concorso per 25 medici a tempo determinato del 14 gennaio è andato deserto, in attesa dell'espletamento di quello a tempo indeterminato del 19 dicembre scorso, è stato pubblicato in questi giorni un avviso per l'assunzione a tempo determinato per tutto il 2023 di 25 medici stranieri. Al fine di fronteggiare l'emergenza e di garantire i livelli essenziali di assistenza, è stata indetta la procedura per l'assunzione di dirigenti medici della disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza, in deroga proprio alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite anche in un paese dell'Unione Europeo, in paesi terzi. Vende prestazioni sanitarie a prezzi vantaggiosi su una piattaforma online, ma al momento dell'incasso del buono acquistato dai pazienti non rilascia alcun documento fiscale. E' così che un medico della provincia del Pescarese effettuava visite nel corso degli anni senza mai dichiarare quanto percepito. Scoperto dalla Guardia di Finanza, il medico ha sottratto all'erario ricavi per lo più di 80 mila euro, oltre ad aver impiegato tra l'altro anche un dipendente in nero, come arrivevano gli accertamenti riguardanti la sua posizione fiscale. Cambiamo adesso argomento. Le osservazioni della Casa dei Diritti, l'associazione presieduta dall'onorevole Laura Venitelli, hanno ispirato a Termoli la nascita di un nuovo comitato al quale aderiscono numerosi altri comitati e movimenti contrari all'eolico offshore molise. La nascita di questo nuovo comitato civico a Termoli è stata ispirata dalla Casa dei Diritti e dal progetto eolico offshore molise, una iniziativa attivata dalla società Maverick che in questi giorni tiene banco nelle varie discussioni tra chi è favorevole e chi è contrario. Il comitato, che annota tra i suoi sostenitori numerose associazioni e tanti cittadini, armatori, professionisti, consiglieri regionali e comunali, ha espresso una posizione sicuramente critica sulla richiesta dell'impianto nel mare prospiciente la costa molisana, ma anche alcune perplessità circa la mancanza di programmazione dei percorsi riguardanti l'eolico e il fotovoltaico, come si evince dalle parole dell'onorevole Laura Venitelli che presiede la Casa dei Diritti. Noi diciamo sempre che siamo piccoli, che purtroppo non abbiamo la sanità adeguata perché siamo piccoli, non abbiamo le strade adeguate perché non ci sono risorse, sempre perché siamo una piccola regione, c'è chi ci prende in giro per il discorso che non esistiamo, però poi esistiamo, ogni qualvolta bisogna mettere paleoliche on shore, centrale turbogas e adesso anche questa che occupa lo spazio di 20 km di costa impedisce tutte quelle che sono le attività antropiche che diciamo sono la nostra forza e la nostra caratteristica. Io voglio fare una premessa, noi non siamo contrari alle Olicon Shore, sappiamo benissimo che c'è bisogno di cambiare quelle che sono le sorti dell'Italia, le sorti del mondo per quanto riguarda le fonti energetiche, però noi ci battiamo fortemente su che cosa? sulla, diciamo, su quella che è il discorso della programmazione, del regolamento dello spazio marittimo che è in dirittura di arrivo. Dal 2016 l'Italia ha approvato quelle che sono le linee guida dettate dalla Commissione Europea per individuare il piano regolatore del mare e nel piano regolatore del mare la costa adriatica è stata particolarmente attenzionata con tutti quelli che sono gli usi, con tutti quelli che sono le possibilità che si possono appunto sviluppare dell'economia blu all'interno appunto del bacino dell'Adriatico e abbiamo verificato e constatato che ahimè sulla costa molisana è previsto un tipo di sviluppo diverso da quello energetico. Quindi noi ci battiamo per questo affinché, diciamo, i grandi gruppi che portano quelli che sono gli interessi di chi vuole fare economia con l'eolico trovi una limitazione in quello che il piano regolatore del mare si chiama piano di gestione dello spazio marittimo che è in dirittura di arrivo. Capiamo che fare un intervento prima dell'adozione di questo piano regolatore del mare, io lo semplifico così, si chiama piano di gestione dello spazio marittimo, significa accaparrarsi in maniera anche selvaggia, accaparrarsi spazi di territorio che diversamente avrebbero un'altra destinazione. Quindi è a questo, diciamo, che noi vogliamo porre un freno e a questo che vogliamo porre i bastoni tra le ruote. Rallentamenti lungo la Bifernina questa mattina a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat Panda al chilometro 39. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell'ANAS per permettere in sicurezza la carreggiata e regolare la circolazione del traffico. Intervenuta anche un'ambulanza del 118 per verificare le condizioni fisiche del conducente. Mal tempo sull'Italia in queste ore e nei prossimi giorni per gli effetti di una vasta area di bassa pressione e di origine nordatlantica, già responsabile di un peggioramento delle condizioni con precipitazioni anche temporalesche su gran parte del centro-sud. Prime nevicate anche al centro in queste ore il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha messo un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, di allerta arancione che integra quello diffuso. Ieri si invita tutti a fare attenzione soprattutto per gli automobilisti a mettersi in viaggio con catene a bordo oppure con pneumatici adeguati. L'associazione Centro Storico Trivento esprime una netta contrarietà alla scelta dell'amministrazione guidata dal sindaco Pasquale Corallo di spostare la sede del comune e gli uffici all'istituto scolastico Emanuele Ciafardini. Si fa ancora un gran parlare della decisione assunta dall'amministrazione di Trivento guidata dal sindaco Pasquale Corallo di spostare la sede del comune e gli uffici portando il tutto nell'istituto scolastico Emanuele Ciafardini. Nel dibattito intervengono gli iscritti all'associazione Centro Storico Trivento che esprimono la propria contrarietà. Affermano che pur riconoscendo lo stato inadeguato per le sedi comunali di Via Torrette e Piazza Cattedrale ritengono la decisione improvvida sia per il mancato coinvolgimento della cittadinanza ma anche per il valore simbolico della sede. Lo spostamento infatti andrebbe a privare il centro storico di uno degli ultimi servizi presenti. Per colmare il vuoto creato a seguito di questa decisione i soci dell'associazione invitano l'amministrazione nelle prossime settimane a ragionare sulla possibilità di cercare una sede dignitosa nel centro storico da ristrutturare con fondi pubblici accessibili ai portatori di handicap e che oltre ai servizi possa fungere da polo culturale attraverso una biblioteca, una sala conferenze ed un punto di aggregazione a favore dei vecchi e nuovi residenti e possa essere utilizzata dalle tante associazioni presenti in città. Il professor Luca Brunese, ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia e rettore dell'Università degli Studi del Molise è stato chiamato a far parte del comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità. Sarà tra i dieci esperti di alta riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto, in sostituzione del professor Orazio Schillaci. Il comitato incarica quattro anni a fianca il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Silvio Brusaferro. Parliamo adesso dell'inflazione, in aumento anche i prezzi di beni di prima, necessità come pane e verdure dopo il caro carburante, paura anche per il prezzo del carrello della spesa. Ma vediamo. Caro energia, caro bollette, caro carburante e ora anche caro carrello della spesa. Cresce l'inflazione in Italia ma gli stipendi restano uguali. L'impennata dell'inflazione pesa ad oggi soprattutto sul carrello della spesa dei cittadini che nel 2022 hanno speso 2,6 miliardi di euro in più per mettere in tavola pane e pasta, ma anche per la verdura che è costata ben 2,3 miliardi di euro in più, mentre la carne si è avuto un esborso aggiuntivo di 2,2 miliardi rispetto allo scorso anno. E questo quanto emerge dall'analisi dei dati Istat relativi all'inflazione dello scorso mese di dicembre che a livello generale fanno segnare nel 2022 l'aumento più ampio dal 1985 tra i nati dal rincaro dei beni energetici legato alla guerra in Ucraina che fanno soffrire l'intera filiera dai campi alle tavole. Complessivamente le famiglie hanno speso ben 13 miliardi di euro in più per prodotti alimentari e bevande analcoliche a causa dell'aumento medio dell'inflazione del 9,1% con la classifica degli aumenti che è guidata da pane, pasta e cereali. Se i prezzi per le famiglie corrono l'aumento dei costi colpisce duramente l'intera filiera agroalimentare, a partire dalle campagne dove più di un'azienda agricola su 10 in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività. La siccità dei mesi scorsi inoltre preoccupa sempre di più l'attività agricola e mescolata all'aumento dei prezzi si teme anche in vista dei mesi a venire. La Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione per i giovani sugli incidenti stradali nell'ambito di un progetto sulla collaborazione tra il Dipartimento delle Politiche Antidroga e la tutela della salute pubblica. La campagna viene condotta in tutto il territorio nazionale. Oggi c'è stato l'incontro con i ragazzi del liceo di Campobasso diretto dalla rigirigente scolastica Anna Gloria Carlini. Domani mattina il pulman azzurro partirà alla volta di Battipaglia. Matteo Salvo è esperto di tecniche di apprendimento e di memorizzazione. Opera da oltre 20 anni per diffondere alcuni suoi metodi di studio. Qualche giorno fa è stato accolto da tutti al convitto Mario Pagano e giunto in bicicletta da Torino fino a Campobasso. Alla base del viaggio di Matteo Salvo in bicicletta da Torino a Campobasso c'è una promessa, un impegno assunto con il rettore Rossella Gianfagna, gli insegnanti e soprattutto gli studenti del convitto nazionale Mario Pagano. La promessa l'ha fatta qualche tempo fa per via dei risultati assai lusinghieri ottenuti dagli allievi del convitto che avevano studiato seguendo un suo particolare metodo. Matteo Salvo infatti da oltre 20 anni si occupa egregiamente di tecniche di memorizzazione e di apprendimento, un percorso che ha portato a prestazioni sempre più importanti e qualificate. Il viaggio chiaramente era un'iniziativa simbolica per trasferire diversi messaggi. Apprendere è una cosa bella come andare in bicicletta, basta avere gli strumenti giusti, basta avere l'entusiasmo per l'apprendimento. Tante volte invece viene associata un'emozione quasi di dovere, quasi di fatica. Tutto questo perché abbiamo dei metodi che sono poco funzionali. Leggo, sottolineo e ripeto e dedichiamo tanto tempo, non vediamo il risultato e quindi ci sentiamo che quella cosa non ci gratifica. Succede tutta un'altra cosa invece avendo strumenti adeguati che ci permettono di individuare concetti chiave, archiviarli nella nostra memoria in modo che dopo possiamo riutilizzarli ogni volta che ci può servire. L'idea di questo viaggio è nata da una promessa fatta qui al convitto Mario Pagano perché tutti i docenti sono stati formati per insegnare con le tecniche e se loro si fossero impegnati a mettere in pratica il metodo io mi sarei impegnato a scendere in bici per fare qualcosa che fosse allo stesso modo impegnativo, che richiedesse costanza, determinazione e fatto quotidianamente. Io non l'ho fatto quotidianamente ma quotidianamente c'è stato un allenamento e la cosa che mi piace dire è che i grandi risultati si ottengono con piccole cose continue nel tempo, esattamente come lo sforzo sul pedale. Lo sforzo sul pedale non è uno sforzo immenso, non è sollevare 100 kg, è un piccolo sforzo però pedalata dopo pedalata uno fa tutti i chilometri che portano da Torino a Campobasso in modo sostenibile e anche piacevole. Tutto pronto per il San Sebastiano dell'Istituto Comprensivo Brigida di Termoli che si svolgerà giovedì 19 gennaio per le vie della città. Controvento gli alunni coinvolti, 50 musicisti della secondaria di primo grado, 50 cantori della scuola primaria di via Maratone e 20 piccoli attori della scuola dell'infanzia di via Cina che indosseranno costumi da angioletti. Mangiare Molisano consumando quindi prodotti sani, controllati e soprattutto del proprio territorio. Si parlerà di questo nel convegno dal titolo Consumiamo Molisano che si svolgerà venerdì 20 gennaio a partire dalle 17.30 all'interno della Palazzina Liberty di Venafro, un appuntamento promosso dall'Associazione Borghi dello Sport nel quale interverranno numerosi esperti del settore. Ma andiamo invece adesso a vedere le previsioni del meteo. Metalimpianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, pvc e legno alluminio. Metalimpianti Boiano. Info 0874 77 34 54. Gruppo Zulli dal 1975 con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Zulli ceramiche a Città Sant'Angelo e nei pressi di Mondo Convenienza, aperti tutti i giorni compresa la domenica. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Tempo incerto e piogge oggi sulle zone più interne appenniniche di Molise e Abruzzo. Miglioramento del quadro climatico dalla sera. Le temperature sono comprese tra la minima di 8 gradi a Campobasso fino agli 11 di Isernia per il Molise e dai 6 gradi dell'Aquila fino alla massima di 13 a Pescara per l'Abruzzo. Venti forti meridionali, mosso l'Adriatico centrale. Domattina sulle due regioni saranno maggiori gli spazi di cielo sereno, valori climatici in leggera flessione, correnti sud-occidentali. T.L.T. in rete, vivi con noi le emozioni dei campionati di Serie D, eccellenza e promozione. Risultati contributi dai campi e interviste ai protagonisti. T.L.T. in rete, ogni domenica, dopo le 22 e in replica il lunedì alle 15.30. Lido di Ostia ed Ecositi Genzano sono le due battistrada nel calcio 5 nazionale di A2, risultati e classifica del girone B. Aversa-Mantova 3 a 2, Eur-Italpol 5 a 5, Sporting Roma-Roma Calcio a 5, 2 a 5, Active Network Città di Massa 7 a 2, Prato-Lido di Ostia 1 a 2, Cesena-Lazio 2 a 3, Ecositi-Genzano-Cus-Molise 2 a 1. La nuova classifica, Lido di Ostia 46 punti, Ecositi-Genzano 45, Cesena 33, Active Network 31 punti, Lazio Sporting Roma e Mantua 26, Modena 25, Roma 23 punti, Italpol e Cus-Molise a 20, Aversa 14, Eur 12, Chiudono Città di Massa 9 punti e Prato a 4. Nel calcio a 5 under 19 il Cus-Molise al palaunimo l'è fermato sul pari 2 a 2 dal Chieti. Il quintetto molisano resta comunque in vetta ma con una sola lunghezza di vantaggio sui teatini. La ripresa del campionato giovanile ci sarà il 5 febbraio con in calendario per il Cus la trasferta di Venafro. Sorpresa nel girone F della Serie D, l'Almafano strappa i tre punti in casa della capolista Pineto. Nel primo match casalingo del 2023 il Pineto perde per 0 a 2 contro la sua bestia nera l'Alma, Juventus-Fano in vantaggio nel primo tempo e Granata con Nappello nella ripresa. Bonacchi raddoppia per i marchigiani. Calcio d'inizio per i padroni di casa, la partita incomincia con il solito equilibrio, il primo squillo degno di nota è De Biancazzurri. Maio pesca i mili che dà l'illusione del gol. Un giro di lancette dopo e ancora Maio a trovare in un'azione fotocopia la risposta di Bizzini in due tempi a disinnescare. L'Alma, Juventus-Fano non si scompone e dopo una lunga fase di studio passa al 35esimo. Nappello toglie le cosiddette ragnatele dal 7 trovando un vantaggio pesantissimo. Nella ripresa il match continua con il solito copione. Il Pinedo ci prova con Maio alto sopra la traversa. L'undici di Mosconi rapace, raddoppia. Niang si invola tu per tu con Mercorelli e confeziona il pesantissimo raddoppio. Il match viene addormentato dai Granata con i padroni di casa che non riescono a trovare il pertugio giusto. Nel finale azione insistita in area di rigore ma sulla conclusione di Allegretti il Fano si salva nel più classico dei corner. Dalla bandierina il neo entrato Nonni in corna ma Bizzini riesce a far suo il pallone. Dunque l'Alma, Juventus-Fano si conferma bestia nera dei biancazzurri annoverando le uniche due sconfitte del Pieto in campionato. Campobasso superiore in tutti i reparti per forza atletica, capacità tecniche e soprattutto tattiche. Sentiamo il tecnico Pino Di Meo al termine del confronto a Gambatesa. Mister Di Meo, altri tre punti. Un primo tempo finito 1-0 dove il Gambatesa ha cercato di dire anche la sua. Poi il secondo tempo il Campobasso è venuto fuori tecnicamente, anche tatticamente. Avete portato il risultato a casa? Abbiamo strameritato di vincere, la squadra ha giocato ad altissimi livelli. Stiamo acquisendo quella forza fisica abbastanza importante. Quindi sono convinto che proseguendo in questa maniera potremo arrivare all'obiettivo. Mister, segnali importanti da diversi elementi, Tordella, Cascione Traorea che è tornato operativo da poco. Cosa le è sembrato? La squadra sta crescendo a vista d'occhio. Ho una rosa molto importante, dei ragazzi molto importanti dove il gruppo è sano. Pensano solo all'obiettivo tutti, abbiamo 23-24 di rosa che pensiamo solo all'obiettivo. Quindi questa è la cosa importante. Devono capire tutti quanti che noi dobbiamo arrivare all'obiettivo e basta. Testa adesso alla Castella di Sangro. Mister oggi ha dato filo da torcere per così dire all'Isernia. Il prossimo incontro con la Castella di Sangro cosa dobbiamo aspettarci? Ma dobbiamo stare sempre con le antenne dritte, sempre concentrati e sempre affrontare la squadra con grande umiltà. Solo così si vincono tutte le partite. In promozione il Trivento stecca di fronte ai propri tifosi al cospetto del Baranello 3-2 il risultato in favore dei Rosso-Blu ospiti. La vittoria in casa a Trivento manca da fine ottobre contro lo Spinete. Il Baranello invece si esprime meglio lontano dal Campo Amico. Al Comunale di Via Acqua Santianni dirige il fischietto rosa della sezione di Campobasso in una giornata ventosa. I gialloblu partono a razzo. Dopo quattro giri di lancette si invola sul binario mancino Colagrossi. Paolo Di Blasio in spaccata non riesce a correggere la palla in rete. Il Trivento preme da subito sull'acceleratore ma è colpito al primo errore della sua retroguardia da uno dei quattro ex di giornata Stefano Zurlo schierato al centro del fronte d'attacco dei Rosso-Blu. Siamo solo all'undicesimo. Tre minuti più tardi gli ospiti raddoppiano con Di Paolo Lesto a buttarla dentro a porta vuota sulla intuizione di Zurlo verso Cappelletti lanciato in area dal lato destro dell'attacco. Il Trivento si sgonfia e il Baranello rinvigorito dal doppio vantaggio potrebbe portare a tre le marcature ma il solito Zurlo coglie di testa l'incrocio dei legni sul perfetto arcobaleno del veloce Di Paolo sulla corsia opposta. Prima del ritorno negli spogliatoi un frastronnato Trivento trova la rete che riduce lo svantaggio. Lunga la preparazione della trama che porta Cioccia al cross sulla testa di Paolo Di Blasio sorpreso Calardo che non può fare altro che raccogliere la sfera in fondo alla rete. Nella ripresa i locali sgasano a tutta per cercare il pari che arriva al minuto 11 con Russo Bravo a farsi trovare pronto in area sull'angolo calciato da Nicola Di Blasio. Gli ospiti adesso accusano il contraccolpo fisico e mentale ma poco dopo il quarto d'ora hanno l'occasione di testa in tuffo di riportarsi in avanti. Antonello Niro non trova la porta di un niente dinanzi a Minichillo. Altra emozione sempre da calcio piazzato per il rosso-blu di Mister Di Chiro. Minichillo accenna appena l'uscita. Antonello Niro questa volta timbra il palo al minuto 24. I locali tornano a spingere dopo lo scampato pericolo con la Grossi con un elegante volei cogliere legno alla sinistra di Calardo su azione nata dalla punizione calciata da Cioccia. Con l'ingresso in campo di Scarano Iocca i padroni di casa si scrollano le paure di dosso ma subiscono il contropiede di Cappelletti agganciato in area da Catalano. L'arbitro Rosa non ha dubbi e segna la massima punizione. E' lo stesso ex campo di Pietra che trasforma dagli 11 metri spiazzando il portiere Minichillo. Mancano ancora 15 minuti al rientro negli spogliatoi ma il Trivento non avrà più la lucidità e le energie per superare l'attenta difesa ospite. Al Comunale finisce con il Baranello a festeggiare per i tre punti. Un'altra domenica vara di risultati al contrario per la formazione del presidente Guidone. Due giorni all'insegna della pallacanestro in carrozzina domani giovedì 19 in Molise. Domani mattina primo appuntamento all'Istituto Superiore Majorana a Termoli con il seminario sull'impostazione di un allenamento dopo domani. Invece al Palau Unimol di Campobasso l'approfondimento sul gioco di squadra. E con questo è tutto. Termina qui l'edizione. Vi ringrazio e vi rimando alle prossime. Arrivederci. Grazie a tutti.